È stata una gara molto dura, più che altro molto veloce, differente da una grande classica perché qui comunque ti devi muovere quando mancano 50-60 km all'arrivo, cercare di essere vigile sempre perché il circuito, se stavi davanti, risparmiava un po' di energia. Non era facile, i miei compagni mi hanno aiutato bene, alla fine Bacocci era più forte e penso che il secondo posto è la cosa migliore che potessi fare oggi, solo mi dispiace di non aver vinto per dedicare la vittoria ad Antoine perché quello che è successo alla Gantt è ancora vivo dentro di noi, è difficile da dimenticare e la nostra squadra ancora sta subendo lo shock di tutto questo. Non è facile andare avanti, non è facile correre in bici quando succedono cose così. Ero convinto di star bene perché al Catalogna sono andato molto forte, più forte di quello che pensavo, dopo ho lavorato molto duro, anche lontano dai miei compagni, in accordo con la squadra abbiamo deciso di stare, che io stessi in altura, che non venisse il funerale di Antoine e questo mi ha aiutato a stare mentalizzato per queste corse. Dopo la gara di oggi posso dire che sono ancora più confident, sono ancora più consapevole della mia forma. Adesso all'Amstel bisogna avere un po' di fortuna, che il nostro Angelo lassù ci assista e dare il 100%.